Un appartamento disabitato. Andiamo a vedere dove ci porta questo posto. Un posto veramente spettrale. Un appartamento disabitato. La vegetazione è sempre più intervia. Un appartamento disabitato. Fantastico! Sicuramente non fa paura. Questo è un posto disabitato. Più vicino non riesco ad andare. La strada è completamente sommersa da vegetazione. Questo è sicuramente un vecchio acquapalco. Un vecchio acquapalco disabitato. 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 1970 Strada. Un vecchio acquapalco disabitato. Un vecchio acquapalco disabitato. Un vecchio acquapalco disabitato. Un vecchio acquapalco disabitato. Un vecchio złoto. Nagraggando la gru thank Agw hyposshai.